Le ragazze non mi deludono perché le ho viste in tutto questo periodo del raduno, ho visto l'impegno che ci mettono, che ci hanno messo e quindi non sono delusa da loro. Io credo che anche la partita di oggi, che non meritavamo di perdere per quello che si è visto in campo, mi ha fatto vedere una cosa importante, la non tranquillità. Il percorso che abbiamo fatto in questi anni è stato tutto un percorso vincente, in crescita sempre, facendo bene e quindi probabilmente queste aspettative sono state molto forti che ti hanno un po' schiacciato e tolto quella tranquillità che nel momento in cui una cosa non ti viene e vai sotto e non riesci a condurre la partita probabilmente ti ha un po' invaso. Non si può pensare in sette anni di annullare un gap di vent'anni, non si può pensare. Cioè una volta tu fai un qualcosa di straordinario che è quello che ti fa partire però poi devi costruire. Insomma quindi è questa la situazione. Ci vuole il tempo, ci vuole risorse, ci vuole progettualità e bisogna crederci. Bisogna credere nel movimento, credere, investire adesso e magari anche investire in questo momento e magari neanche rientrare dell'investimento per poi rientrare fra sei, sette, otto anni. Insomma la delusione è forte, la sofferenza è tanta e ci si rialza come dico io attraversandola, passandola, riflettendo ognuno di noi su se stessa e poi sapendo che a settembre abbiamo due partite importanti che ci potrebbero permettere di andare a fare il mondiale, un'altra competizione di assoluto livello e bisogna anche pensare che nel calcio come nello sport non sempre si può vincere. C'è anche la sconfitta, bisogna anche contemplarla e forse attraverso le sconfitte poi riesci anche a crescere. Insomma quindi penso che debbano fare questo le ragazze. Grazie.